10.000 iscritti per alcuni potrebbero sembrare pochi ma per noi di Out of Beat è un piccolo grande traguardo che vale la pena di festeggiare. Quando io e Khaled abbiamo aperto Out of Beat 10 anni fa, eravamo due ragazzini, siamo partiti davvero allo sbaraglio quasi per gioco e abbiamo iniziato a realizzare guide, le news e le prime recensioni e poi col tempo ci siamo fatti prendere la mano. È arrivato il canale YouTube, sono arrivate le prime collaborazioni, insomma ci siamo gasati e convinti che il nostro progetto potesse avere davvero un futuro. Negli anni ci sono stati anche dei momenti effettivamente molto duri, dei momenti brutti, ad esempio quest'anno il fatto che ci è stato hackerato il canale, però insomma siamo sempre riusciti a venirne fuori e ad andare avanti e portare avanti il nostro progetto e siamo diventati una bella realtà che quest'anno compie anche 10 anni, quindi oltre ai 10.000 iscritti abbiamo anche 10 anni di attività da festeggiare. Siamo contenti soprattutto perché nonostante la nostra sia una piccola realtà, siamo in crescita, il sito ha un buon seguito, dei buoni numeri, buone visualizzazioni e il canale YouTube cresce ogni giorno e ci regala delle grandissime soddisfazioni. Nel video di oggi ci tenevo a ringraziare anche a nome di Khaled che non vedete mai in video ma che si fa davvero in quattro per il nostro progetto, i nostri primi 10.000 iscritti ma poi soprattutto volevo ringraziare anche tutti coloro che hanno letto i nostri articoli e visto i nostri video nel corso di questi 10 anni di storia e poi soprattutto volevo fare un caldo ringraziamento ai nostri amici, parenti che ci hanno supportato e sopportato nel corso di questi primi 10 anni di Out of Beat che sono un piccolo grande traguardo e speriamo sia solamente l'inizio di una nostra lunga avventura. Quindi ragazzi davvero grazie di cuore a tutti, è un bel traguardo, è una bella emozione arrivare a questi 10.000 iscritti. Adesso via spediti verso nuovi obiettivi perché sicuramente non vogliamo fermarci e io vorrei qua dietro un giorno molto molto lontano da targhetta dei 100.000. Non dimenticate di seguirci anche sui social per restare sempre aggiornati sulle nostre novità e sui nostri progetti. Da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto, grazie, è il prossimo video. Grazie davvero di cuore stavolta.